salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene come vedete oggi sono in auto e sto parlando di sonoff ed ewe link una cosa strana però è una bella novità che è appena arrivata c'è stato un aggiornamento dell'applicazione ewe link e per chi ha il pacchetto advance quindi il pacchetto a pagamento che costa 10 euro all'anno però mi permette di avere tante funzioni in più è arrivato anche ewe link direttamente su android auto e questo a me rende felice perché finalmente possiamo avere l'applicazione anche sulla nostra auto direttamente collegata ad android auto può essere anche apple carplay quello c'era già però abbiamo anche android auto benissimo adesso vi faccio vedere la schermata del mio cellulare che la registro e poi ve la metto qui di fianco così potete commentarla insieme registra benissimo e abbiamo la nostra applicazione ewe link che è questa qui quindi facciamo andiamo su casa andiamo su profilo e vedete che qui in basso c'è scritto android auto advance e quella lì è la novità quindi vado a cliccare su android auto advance benissimo e vedete che c'è scritto che per creare per far funzionare questa applicazione ho bisogno di una modifica cioè di creare delle scene e adesso andiamo a farlo vai a modifica benissimo adesso qui cosa c'è scritto crea una nuova scena bene mi faccio crea una nuova scena qui mi dice se questo avviene quindi io vado a premere tocca per eseguire poi esegui faccio aggiungi dispositivo intelligente in questo caso vado a mettere il mio portico così vi faccio vedere che si accendono le luci metto on e faccio salva qui mi dice mi fa riepilogo e mi dice salva benissimo nome io metto accensione portico accensione portico ed ho creato la mia prima scena poi vado su salva e salvo tutta la scena vado a creare un'altra per spegnere il portico logicamente in modo che così vi faccio vedere vai a modifica vado su scena ok faccio aggiungi se tocco questa icona faccio che si poi esegui faccio aggiungi dispositivo intelligente portico faccio off salva salva ancora qui in alto a destra come vedete e vado a nominare scrivo spegni portico portico bene salva ok quindi abbiamo fatto che faccio completato quindi abbiamo fatto due scene che dopo mi ritroverò sul mio sulla mia applicazione benissimo adesso come vedete le icone sono uguali quindi io vorrei distinguere perché quando me lo trovo sul schermo del mio della mia macchina non è bello da vedere quindi vado a mettere menu cambio l'icona che vedete qui c'è scritto icona e magari questa che è spegni portico mettiamo la luce blu come se fosse fosse spenta e faccio salva benissimo poi vado su accensione portico invece ok e qui metterò la luce accesa che è questa qui e faccio salva vedete che adesso le due icone sono cambiate quelle in sinistra in alto a sinistra dell'iconcina benissimo e quindi qua abbiamo creato le nostre due scene per poi riportarle direttamente su il nostro android auto quindi adesso passiamo alla schermata del mio della mia macchina e così vi faccio vedere come funziona ecco come vedete adesso io ho collegato il mio cellulare direttamente alla mia auto che lo vedete qua su questo schermo qua e come vedete qui c'è ewe link premo questo tastino qui ok e adesso lui mi dice di andare a modificare il profilo di android auto sul mio cellulare quindi riprendo il mio cellulare lo stacco perché adesso non è ancora fatto vado sulla scena scusate vado sull'applicazione ewe link faccio profilo android advance via modifica ok e qui devo aggiungere queste due scene qua una e una due che avevo creato prima che vi ho fatto vedere come si fa faccio salva e loro si sono salvate vedete che le due icone adesso sono qui su android auto advance non ripeto c'è bisogno del pacchetto quello quello con l'abbonamento annuale non costa neanche tanto ricolleghiamo il nostro smartphone vado su tutte le applicazioni come vedete qui c'è ewe link ok spegni portico accensione portico so se lo vedete eccolo qua quindi adesso io vado a accensione portico e vedete che lì si sono accese le luci del portico adesso nonostante si aggiorno ok spegni portico spengo il portico molto semplice quindi abbiamo la nostra applicazione anche su android auto e secondo me questa è una bella novità per chi usa tantissimo sonoff e we link eccetera avere tutto qua pensiamo a chi ad esempio io non ho il cancello elettrico ma se avessi il cancello elettrico potrei dire ok aprimi il cancello direttamente dalla mia applicazione oppure tramite i comandi di google bene quindi avete visto che l'applicazione è molto molto interessante averla anche qui ci sarà sempre più compatibilità con android auto speriamo anche che arrivi per android tv così possiamo averlo anche direttamente sulla nostra tv e sta diventando tutto tramite android android auto android tv android sui cellulari tutt'uno eccoci qua siamo arrivati alla fine del nostro video spero che questo video vi sia piaciuto che sia stato interessante per me molto interessante e penso che anche per tutti quelli che hanno sonoff hanno i we link e hanno tutti i nostri dispositivi smart averlo anche in auto e comandare dall'auto immaginatevi che sono andato via ho dimenticato le luci accese come faccio sto guidando premo il tastino lì ed ho fatto tutto quanto e questo può essere anche per aprire il cancello di casa può essere fatto per chiudere il cancello di casa magari me lo sono dimenticato aperto o tanti altri dispositivi che magari andiamo a fare a casa nostra per renderla sempre più smart bene signori se il video vi è piaciuto mettete un super like iscrivetevi al canale non costa nulla basta premere il tastino lì iscriviti e attivate il tasto delle notifiche grazie a tutti e arrivederci